Musica Ok ragazzi eccoci con un nuovo video, una nuova video recensione come avete visto dal titolo parliamo di radiotrasmittenti, la rete Viz RT7 andiamo subito a fare una sorta di finto unboxing finto dico perché le ho già utilizzate e testate sarà circa un mese che le sto utilizzando andiamo a vedere un attimino le caratteristiche impresse sulla scatola abbiamo giustamente una facilità di utilizzo batterie a litio, un voice broadcast in sostanza il DSP quindi il Digital Signal Processing scusate la pronuncia trasmissione a lunga distanza all'interno troviamo i codici CT, CSS e DCS giustamente radiotrasmittente non c'è impresso sulla scatola ma a 16 canali con una frequenza che andiamo a vedere poi dopo comunque dei 400 MHz all'interno troviamo il libretto di istruzioni troviamo poi giustamente la batteria da come detto prima batteria a litio da 3.7V 1.5 A 1500 mAh andiamo ancora a vedere l'antenna e andiamo a vedere qui la frequenza reale eccola qua vediamo se mette a fuoco 400 480 MHz quindi in pieno UHF andiamo a tirare fuori la radio montiamo subito l'antenna per chi non fosse come dire esperto e quindi potrebbe non saperlo vi ricordo di non trasmettere mai con la radiotrasmittente se non si è prima inserita l'antenna il perché potete trovarlo su internet e per dirla brevemente andate a bruciare quelli che sono i finali di trasmissione della radiotrasmittente quindi in sostanza il circuito interno e potrete praticamente utilizzare poi la radiotrasmittente come un fermacarte andiamo ancora a trovare all'interno della scatola il suo caricabatteria giustamente da tavolo con presa di alimentazione a 220V troviamo ancora all'interno della scatola un auricolare con attacco probabilmente Kenwood eccolo qua con auricolare e appunto cuffietta e ancora il clip a cintura di facile installazione infatti ho già provveduto su questa radio a installarlo per farvi vedere basterà comunque molto banalmente andare a togliere queste vitine qua ed installare il clip a cintura ho notato solo adesso che inserendo la radio si accende il leddino non buono perché probabilmente manca qualche diodo di protezione all'interno del caricatore che fa sì che praticamente la tensione della batteria si passa poi sul led quindi questo per dirvi che nel momento in cui avete terminato di caricare la batteria della radio togliete la radio dal caricatore da pavimento o da tavolo che sia e staccate poi la spina cosa che peraltro vi consiglio di fare con qualsiasi tipo di radio trasmittente o comunque dispositivo a batteria togliamo la scatola e andiamo a vedere un attimino la radio trasmittente troviamo con un metro subito le dimensioni abbiamo delle dimensioni di 13 cm per 5 cm e mezzo per uno spessore va a salire comunque in totale di 4 cm la lunghezza totale con l'antenna è di 23 cm molto comodo il clip a cintura soprattutto perché ha questo gancetto che permette di far scorrere la radio tranquillamente in cintura senza che si sganci facilmente qui di lato troviamo il connettore jack per appunto collegare l'auricolare mentre di qua troviamo il tasto PTT che è quello che ci permette di parlare il tasto con un solo pallino mettiamola così che ci permette appunto di riconoscerlo col dito che tenendolo premuto abilita la funzione monitor infatti giustamente se accendiamo la radio possiamo sentire la funzione monitor attiva abbiamo poi il tastino qui sotto che permette di accendere questo leddino e ancora ripremendolo di farlo lampeggiare avete già sentito che spostando il selettore dei canali la radio parla indicandoci appunto il canale questo è molto comodo perché se abbiamo la radio in cintura o comunque all'interno del giubbotto con l'auricolare basterà spostare il selettore e riconosceremo subito su che canale ci troviamo è una funzione che molto probabilmente si può andare a togliere da programmazione io ho provveduto anche a comprare il cavo di programmazione ve ne parlo poi magari in un altro video ho acquistato questo qui sempre della rete viso universale che permette di programmare svariati tipi di radio non per forza solo le rete viso quindi è molto comodo soprattutto se si hanno svariate radio diversi modelli con un solo cavo riusciamo poi a programmarle tutte passiamo ancora un attimino a parlare della radio perché volevo mostrarvi questo clip qui sotto che permette di sganciare la radio di sganciare scusate la batteria come vedete non è facile sganciarla cosa che invece succede con alcune radiotrasmittenti tra virgolette giocattolo eccolo qua andiamo a staccarle e vediamo come detto prima le caratteristiche abbiamo i 400 470 megahertz con una tensione di alimentazione di 3.7 volt andiamo a rimu... con chassis in metallo eccolo qua esterno in plastica ma all'interno giustamente in metallo probabilmente perché funge anche da dissipatore per quelli che sono i finali di trasmissione presumo di avervi raccontato tutto di questa radio vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e soprattutto lasciate un like se il video vi è piaciuto ciao alla prossima